Le lascio mettere in cattedrale alle ore 10 e 20. E' auspicio di Di Padua che è dentro. Voi sapete quanto sia sentita la demozione per la Vergine Di Padua nella nostra città essendo noi rappresentanti l'amministrazione comunale, ovviamente in tempo compreso il Consiglio Comunale, sia presente nella sua interezza sia all'unicata nel vuoto e in atteggiamenti di non curanza e di stress. Terza comunicazione. Siamo arrivati nel 9 settembre e come sapete ci sarà il concetto dell'artista calarezza. Devo informare il Consiglio.